L'F1 75 segna il ritorno ai fondi tridimensionali, un contenuto tecnico che in Formula 1 manca dal 1982. Sarà una vettura innovativa, lontana da quella che è stata presentata dalla Formula 1, malgrado regolamenti estremamente costrittivi. Sarà una vettura che per essere veloce vorrà girare bassa e rigida. In sintesi è stata una bella sfida per gli ingegneri e sarà una bella sfida per i piloti. Abbiamo lavorato in un contesto estremamente complesso. Da una parte un cambiamento di regolamenti tecnici così radicale come non si vedeva da 40 anni. Altrettanti cambiamenti sono avvenuti sul regolamento sportivo che hanno cambiato il formato del weekend di gara e il tutto sullo sfondo di un budget cup. Questo ci ha imposto di definire tanti obiettivi, a volte in contrasto tra di loro e tutti sfidanti. Per saltarne fuori abbiamo dovuto definire delle priorità tra tutti questi obiettivi e alcuni li abbiamo raggiunti, altri ci siamo andati vicini ma non li abbiamo completamente raggiunti. Siamo già entrati nella fase di sviluppo della macchina durante la stagione con l'obiettivo non solo di raggiungere gli obiettivi che non abbiamo completamente raggiunto ma addirittura di fare molto meglio. C'è tanta innovazione su questa macchina. Abbiamo affrontato lo sviluppo con curiosità e tanta voglia di esplorare anche tante direzioni diverse. Il bodywork della vettura è molto distante da quelle che sono state le tendenze degli ultimi anni. La sospensione posteriore è qualcosa che Ferrari non ha mai avuto. Poi ci sono tante innovazioni non visibili ma per questo non meno importanti che ci hanno permesso di continuare a avere delle funzionalità tecniche malgrado i nuovi regolamenti. Il budget cap giocoforza ha ridotto le risorse disponibili. La nostra scelta l'anno scorso di contenere gli sviluppi sulla SF21 ci ha aiutato molto a mitigarne gli effetti nello sviluppo della F175. Da un punto di vista tecnico devo dire che tutto quello che avevamo in mente siamo riusciti a svilupparlo e a portarlo in macchina. Abbiamo già definito un piano di sviluppi sia di aerodinamica che di meccanica. Ovviamente il budget cap impone un pragmatismo dello sviluppo e quindi mi aspetto che la frequenza degli aggiornamenti non sarà così alta come siamo stati abituati in passato. Altri due parametri che avranno un ruolo determinante e potranno spostare risorse in una direzione o in un'altra sarà l'affidabilità della vettura e gli incidenti in gara. Questa generazione di vetture sarà più pesante, vorrà usare degli assetti molto rigidi e l'aerodinamica è evoluta tanto dal modello presentato dalla Formula 1. Tutti questi aspetti non vanno nella direzione di facilitare duelli in pista. Poi ci sono altri parametri da prendere in considerazione. Quanto velocemente il regolamento tecnico così costrittivo genererà convergenza di prestazioni, convergenza di prestazioni che sarà rallentata dalla capacità di spesa del budget cap. Insomma è uno scenario complesso e non scontato. Questa generazione di vetture ha una distribuzione del carico aerodinamico diversa dal passato. Ci sarà più carico nelle curve veloci e meno carico in quelle lente. In più ci saranno oltre 40 kg di peso minimo vettura aumentato da gestire che da sole fanno un deficit di più di un secondo al giro. Mediamente quello che mi aspetto è che queste vetture saranno più lente di quelle della generazione precedente con un gap che varierà da pista a pista a seconda del mix tra curve veloci e curve lente. Il nuovo simulatore rappresenta un elemento cardine, l'elemento principe di un percorso di miglioramento dei nostri strumenti di simulazione e di prova. Non potendo testare le vetture in pista è intuitivo capire quanto sia importante riuscire a simularle molto bene. È ancora più importante mettere i nostri piloti nelle condizioni di guidare qualcosa di realistico per far modo che i propri commenti siano affidabili per guidare lo sviluppo successivo della macchina. I nostri piloti sono stati da subito coinvolti nello sviluppo della vettura e ne hanno potuto apprezzare l'evoluzione. L'inizio è stato come l'inizio degli ingegneri, hanno dovuto familiarizzare con caratteristiche diverse dalla generazione precedente. Sono soddisfatto di come abbiamo lavorato come squadra. La pista ci dirà se possiamo essere soddisfatti del risultato.